Benvenuti su LeonTube, eccoci in questo video per andare a vedere come fare in modo veloce l'incarico della settimana numero 4 esamina un forziere o una scatola di munizioni entro 45 secondi dall'atterraggio dobbiamo atterrare qui a condotti confusi, possiamo atterrare ovunque ma qui a condotti confusi è pieno di forzieri ce ne sono moltissimi anche sotto e quindi appena atterrate riuscite ad aprirne uno e questa qui noi l'abbiamo completata perché l'avevamo già fatto altre volte generalmente ce n'è anche uno lì che è stato aperto in più sotto anche sotto è pieno sono già stati adesso qui io sono atterrato tardi però come vedete ce n'era un altro qua poi ce ne sono sotto qui ce n'è uno di solito qua sotto questa volta non c'è però ci sono sempre qui siamo già passati questo l'abbiamo aperto noi vediamo se è qui quello che è sempre ok comunque non c'è però vedete che ce n'è un altro qua qui c'è anche subito una scatola di munizioni quindi ci sono molti molti forzieri quindi è facile fare la missione venendo in questo punto qua anche poi andando sotto la miniera ce ne sono tanti altri subito da prendere in giro basta guardarsi un po intorno intanto ci mettiamo qui un po di ritardo anzi abbastanza infatti ho quel simbolo con poca linea peccato e se il video vi è piaciuto ragazzi vi è stato d'aiuto mi raccomando un bel mi piace condividetelo con i vostri amici nei vostri social non dimenticate di lasciare un commento e come sempre se vi va vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti ciao a tutti